Ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Telecattolica. La Casa Circondariale di Lucera ha inaugurato il 18 dicembre la nuova palestra destinata ai detenuti realizzata con i fondi dell'amministrazione penitenziaria e con la manodopera dei ristretti che permetterà di svolgere attività sportiva con l'utilizzo di attrezzi. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta dopo la celebrazione della messa ufficiata dal vescovo di Lucera Troia Monsignor Giuseppe Giuliano alla presenza del direttore Giuseppe Altomare e del comandante Daniela Raffaella Occhio Nero della responsabile dell'area pedagogica dell'istituto penitenziario Cinzia Conte e del magistrato di sorveglianza Clara Rita Goffredo. La ristrutturazione dei locali che ospitano la nuova palestra è frutto di un finanziamento della Cassa delle Ammende i cui fondi sono destinati a programmi di riabilitazione e reinserimento dei detenuti in base all'articolo 27 della Costituzione. I locali ristrutturati grazie al lavoro di 5 detenuti selezionati dopo un corso di formazione sono stati attrezzati con la consulenza del volontario referente per le attività sportive Luigi Talienti. I corsi per i detenuti saranno coordinati dal CONI e tenuti da due istruttori federati. Servono più investimenti in infrastrutture e nuove tecnologie, anche digitali, ha detto il direttore generale di Confagricoltura all'incontro con il ministro Luigi Di Maio, soffermandosi anche sul tema della semplificazione che dovrebbe investire anche il settore agricolo. Manovra economica e semplificazione al centro dell'intervento del direttore generale Francesco Postorino che ha partecipato al tavolo delle PMI convocato dal ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, accogliendo positivamente l'apertura di dialogo del governo con le parti sociali. Servono più investimenti in infrastrutture e nuove tecnologie, anche digitali, ha detto il direttore generale di Confagricoltura, per superare il gap che pregiudica la competitività delle imprese agricole italiane nei confronti di quelle degli altri paesi europei. Per quanto riguarda la manovra economica, Confagricoltura chiede la riduzione del cuneo fiscale, un credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura e l'estensione anche agli operai a tempo determinato degli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni nel mezzogiorno. Silvana e Angelica, di 28 e 38 anni, due assistite del Centro di Salute Mentale di Troia, hanno conseguito il titolo professionale di operatore sociosanitario. Le ospiti di uno dei luoghi di riabilitazione psicosociale, dove gli operatori sociosanitari prestano la loro attività, sono passate da pazienti a operatrici, in uno scambio di ruoli che dimostra quanto la riabilitazione non solo sia possibile, ma anche reale. A loro il direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, ha donato nel corso della conferenza di servizi aziendale dedicata a tutte le politiche della prevenzione un camice bianco, un augurio in vista del concorso per operatore sociosanitario per il quale le due donne hanno presentato regolare domanda di partecipazione. Nella conferenza stampa di fine anno, Carla Costantino, segretario generale della CISL di Foggia, lancia le proposte per l'intero territorio. Ascoltiamo. I cittadini io credo vogliano trovare innanzitutto tanta serenità, ma soprattutto il problema dei problemi di questo territorio, ma io credo anche dell'intero paese, è il lavoro. Noi dobbiamo necessariamente mettere in atto tutto quello che sono le nostre capacità, il nostro impegno per aiutare questo territorio a dare dignità, perché non è solo il sindacato, non è solo la CISL che dice che è il lavoro che dà dignità alle persone, lo dice anche il nostro Santo Padre, l'ha ripetuto più volte, quindi questo potrebbe essere un regalo importante che la CISL vuole consegnare a questo territorio. In questo tema l'aspetto importante del contrasto al lavoro nero, alla irregolarità, allo sfruttamento per noi è un tema fondamentale, perché proprio realizzando buone prassi e dando importanza all'etica del lavoro, noi siamo convinti che il lavoro possa crescere di più. Gli ultimi mesi ci hanno visto protagonisti come territorio di grandi tragedie, di lavoratori che hanno perso la vita per raggiungere il posto di lavoro. Non possiamo attenzionare questo problema solo nelle emergenze, quindi attiene alla nostra responsabilità far sì che questo tema ci riguardi tutto l'anno, 365 giorni all'anno, con grande serietà, dico io, e con grande collaborazione, perché è il tempo delle alleanze, i soggetti che hanno voglia di dare un contributo insieme dobbiamo lavorare per questo. Per esempio è importante l'esperienza della rete del lavoro agricolo di qualità, dove noi auspichiamo che anche le organizzazioni datoriali facciano una sensibilizzazione alle loro aziende ad aderire a questa nostra innovazione su questo territorio, perché è fondamentale. E poi dobbiamo necessariamente creare le condizioni affinché questo non accada più. Abbiamo chiesto al Ministro Di Maio, in occasione della sua visita qui in Prefettura a Foggia, la CIS l'ha chiesto l'istituzione di un tavolo interministeriale sul tema del caporalato e dello sfruttamento. Lui siamo stati anche disponibili a dire la verità, però ad oggi, a tre mesi dalla sua visita, non abbiamo ancora ricevuto grandi risposte. Quindi se è vero che questo territorio è sensibile, si è mobilitato nell'affrontare quel problema, però abbiamo bisogno delle istituzioni, quindi delle risposte chiare che mettono in campo anche norme che ci possono aiutare. E poi c'è l'altro problema delle sacche di povertà di questo territorio. E per povertà intendo la povertà in senso lato. Sono tanti i problemi che attanagliano le famiglie, gli anziani, i giovani. Allora, che cosa poter fare in maniera pragmatica? Insieme alla Dioce abbiamo lanciato proprio quest'idea di istituire questa rete istituzionale sulla povertà, ma anche per insieme lavorare e tentare di accorciare quella famosa distanza tra il dire e il fare, analizzando, monitorando, ma poi con delle proposte concrete. Questo è il regalo di Natale che vogliamo consegnare a questo territorio, a questa nostra provincia che ha tutto il diritto di vedere legittimate le sue aspirazioni, perché ha tutte le caratteristiche di una provincia che ha grandi professionalità, grandi risorse e quindi insieme dobbiamo tentare di dare delle risposte. Continuano gli eventi di WhatsApp, progetto che ha messo in primo piano il mondo degli agricoltori, con incontri e momenti di condivisione tra gli appuntamenti, sere di filiere. Sentiamo. Sere di filiere è il titolo dell'evento in due tappe con cui WhatsApp ha dato seguito e messo a frutto il lavoro fatto con le contadiner. Negli ultimi due anni l'hub rurale Foggiano ha incontrato circa 400 agricoltori, un percorso, quello delle cene contadine, fatto di condivisione, condivisione infatti ha analizzato quali sono le problematiche più comuni ai contadini del territorio e grazie alla possibilità offerta da Ismea, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, li ha chiamati a raccolta ad Orsara di Puglia, Villa Iamele, per il primo appuntamento dedicato ad approfondire la conoscenza dei contratti di rete. Sere di filiere che ha consentito ai presenti di scoprire attraverso testimonianze dirette come funzionano i contratti di rete, dopo l'appuntamento di Orsara ha fatto tappa a Calcinato, per incontrare i contadini della provincia di Brescia e confrontarsi anche con loro sul tema delle reti e sull'importanza delle relazioni. Sabato 22 dicembre alle ore 11 nella sede comunale di Carapelle sarà inaugurato lo sportello del welfare. Sentiamo di cosa si tratta. A Carapelle tra pochi giorni sarà inaugurato lo sportello del welfare. Si tratta di una sorta di infopoint per portare a conoscenza la cittadinanza e tenerla informata sui servizi sociali e sociosanitari attivi in paese e nell'ambito territoriale. Verranno messe a disposizione dei cittadini, ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele, tutte le informazioni sulla rete dei servizi, delle strutture e degli interventi attivi sul territorio. Si tratta in pratica di uno sportello aperto al pubblico che garantisce ai cittadini accoglienza e informazione sui servizi attivi, ascolto per indirizzare il cittadino all'ufficio o al servizio che meglio risponde alle sue esigenze, supporto e orientamento verso i servizi professionali di competenza per la presa in carico. E' stato premiato lo studente dell'Einaudi, autore del logo che è stato scelto da Rosso Gargano per celebrare il decennale del marchio aziendale, il servizio. Per il decennale di Rosso Gargano è stato premiato il lavoro grafico dell'Einaudi, un logo per il pomodoro che sta invadendo i mercati internazionali. Tra i vari loghi presentati è stata posta l'attenzione sul lavoro di Antonio Manicone, della quarta A commerciale, che ha spiegato il logo come l'insieme dell'elemento del pomodoro lungo che contribuisce anche alla formazione della scritta del decennale e dalla caratterizzazione imperiale di buon auspicio per la conquista di nuovi mercati. Il ragazzo è stato premiato con un buono da spendere in un negozio dove poter trovare prodotti informatici, ma l'azienda ha anticipato che potrà utilizzare anche altri loghi presentati per attività di comunicazione commerciale o istituzionale, come nel caso del disegno realizzato da Savuele Iazzani della terza A commerciale, sempre dell'Einaudi. Arriviamo allo sport. Anche la scherma pugliese è rappresentata sul gradino più alto del podio, ad Eraclion, in Grecia, dove si è svolta la tappa del circuito di Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile. Merito di Giulio Gaetani, atleta formatosi dal punto di vista schermistico in Puglia e attualmente in forza all'Accademia Marchesa di Torino, che assieme ai compagni di squadra Daniel De Mola, Giacomo Gazzaniga e Marco Mulluso si è aggiudicato la prova disputata in terra ellenica. La finale, giocata con la Polonia, è stata vinta per 45 a 34. E per chiudere vi segnaliamo un evento. L'amministrazione comunale di San Severo, in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in collaborazione con il Club per l'UNESCO di San Severo, ha programmato l'inaugurazione di una mostra fotografica dal titolo Jordan Alarasi, presso la Galleria Comunale d'Arte Luigi Schingo, dal 22 al 29 dicembre prossimi. La mostra in epigrafe nasce dal progetto di un giovane sanseverese, Leonardo Antonio Avezzano, fotografo freelance, che ha documentato le tappe di un cammino alla scoperta del territorio della Giordania. Bene, con questo è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito. Ora c'è il meteo. Arrivederci! Grazie!